Lezione conclusiva. Il percorso dell'amor cortese nella letteratura italiana. Siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso sull'amor cortese, un tema centrale nella letteratura medievale, che ha influenzato profondamente il modo di concepire l'amore e le relazioni tra uomo e donna per secoli. Oggi voglio ricapitolare con voi questo viaggio, soffermandoci sulle tappe più importanti che abbiamo esplorato, e su come questo concetto si è trasformato, fino alla sua definitiva condanna da parte di Dante Alighieri. 1. Le origini dell'amor cortese. L'amor cortese nasce nelle corti medievali della Provenza, tra il XII e XIII secolo, cantato dai trovatori. Esso è caratterizzato da due elementi principali. L'amore è adultero, non coinvolge i coniugi, ma si sviluppa tra una dama sposata e un cavaliere. Il matrimonio, spesso frutto di alleanze politiche, non è considerato la sede di un vero sentimento amoroso. Non è consumato. Per evitare il peccato mortale, l'amore cortese deve rimanere platonico, un'adorazione a distanza. L'amore cortese ha una funzione nobilitante. Attraverso l'amore per una dama, il cavaliere si eleva moralmente e spiritualmente. Questo amore è segreto, sofferto, e deve essere mantenuto all'interno di una struttura sociale rigida e rispettosa delle convenzioni. 2. La scuola siciliana. Jacopo D'Alentini. Nell'Italia del 200, l'amor cortese trova la sua prima espressione poetica nella scuola siciliana, alla corte di Federico II. Qui, Jacopo D'Alentini, uno dei maggiori poeti, perfeziona il sonetto come forma poetica e tratta dell'amore con un tono ambivalente. Nel sonetto Io maggio posto in core, Jacopo riflette sulla dualità dell'amore cortese. Da una parte, riconosce il pericolo del peccato. Non perché o peccato ci volesse fare. Dall'altra, inizia già a intravedere una dimensione spirituale, portando la figura della donna a un livello celeste. Veggendo la mia donna inghiora stare. Questo movimento anticipa quello che vedremo poi con Dante e la sublimazione dell'amore verso il divino. 3. Guido Guinizzelli e lo stil novo. Con Guido Guinizzelli, nasce lo stil novo, una corrente letteraria che sviluppa l'amor cortese in modo più elevato e spirituale. In Guinizzelli, l'amore non è solo una passione, ma un riflesso della nobiltà d'animo. Al core gentil rempaira sempre amore. Solo chi è nobile di spirito può amare, e l'amore stesso eleva l'animo dell'amante. Questo concetto, che lega amore e nobiltà morale, è una tappa fondamentale nell'evoluzione dell'amor cortese. 4. Dante giovane. L'amore divino. Dante, nei suoi primi anni di scrittura, abbraccia e sviluppa le idee dello stil novo. Nella sua opera giovanile Vita Nova, Dante trasforma completamente il concetto di amor cortese. Beatrice non è solo la donna amata, ma diventa un'entità divina, colei che porta Dante verso Dio. La descrive come un miracolo vivente. Parche sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Qui, Dante compie un salto decisivo. L'amore per Beatrice non è più un sentimento terreno, ma una via di salvezza spirituale. La donna non è più un sogno irraggiungibile di corti e castelli, ma una guida celeste. 5. Dante maturo. La condanna dell'amor cortese. Tuttavia, con la maturità, Dante arriva a comprendere la vera natura dell'amor cortese, e lo fa in modo chiaro e definitivo nel canto Quinto dell'Inferno. Qui, Dante incontra le anime di Paolo e Francesca, due amanti travolti dalla passione adulterina. I versi che Francesca recita sono sublimi, e cantano l'amore cortese nel modo più raffinato possibile. Amor, calcor gentil ratto saprende. Amor, cannullo amato amar perdona. Eppure, nonostante la bellezza di queste parole, Dante ci fa vedere chiaramente le conseguenze di questo amore. Amor condusse noi ad una morte. L'amor cortese, che sembrava elevare gli amanti, li ha invece portati alla dannazione eterna. Dante comprende che l'amore adultero, anche se cantato in modo nobile, è comunque un peccato mortale. In un colpo magistrale, condanna non solo gli amanti, ma anche la letteratura cortese stessa, rappresentata dal libro che ha sedotto Paolo e Francesca. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Per Dante, la letteratura cortese è colpevole perché induce al peccato, avvicina al desiderio proibito, e infine all'autodistruzione. 6. La fine dell'amor cortese. Lo svenimento di Dante alla fine del canto è più di una semplice emozione. È il simbolo della fine dell'amor cortese. Dante comprende che l'amore cantato nei secoli precedenti, adultero e non consumato, non è altro che lussuria travestita d'arte. Con il canto quinto, Dante mette un punto fermo. La letteratura cortese, così com'è stata cantata, non ha più posto nel suo mondo. Da qui in avanti, l'amore sarà solo puro e divino, mai più terreno e peccaminoso. Conclusione. Con questo percorso, abbiamo visto come l'amor cortese si è evoluto, passando dalla celebrazione dell'amore terreno, seppur idealizzato, fino alla sua sublimazione divina. Eppure, con Dante, giunge anche la consapevolezza della sua illusione, un amore che, pure elevando l'animo, nasconde il peccato. Dante ci invita a guardare oltre, verso un amore che non può essere adultero, ma che deve essere puro, spirituale, e guidato dalla fede. L'amor cortese, nato nelle corti medievali, si conclude nel giudizio definitivo di Dante, portandoci a riflettere su quanto l'amore, nella sua forma più vera e autentica, debba sempre tendere al divino.